salve ragazzi bentornati nel canale oggi vi faccio vedere la nuova postazione perché qua abbiamo super poster con tutti i personaggi e manga che l'ho trovato qua quindi ce l'abbiamo goku krillin trunks tutti conti comunque un bel mashup tra one piece goku naruto c'è anche piccolo c'è anche l'altro goku un bellissimo poster che ho trovato perché in italia questi qui sono abbastanza rari e quando li trovate nelle diccole sono abbastanza costosi invece qua filippine l'ho pagato pochissimo quindi lo voglio mettere per portarmi fortuna questo viaggio su youtube che sta andando meglio di qualsiasi aspettativa perché adesso siamo siamo alla bellezza di vediamo adesso diretta il bello della diretta siamo alla bellezza di 8.925 iscritti 8.925 quindi se continuiamo di questo passo raggiungiamo 10.000 iscritti fra un paio di mesi quindi combinerò blog in inglese e in italiano per accontentare un po tutti quanti visto che mi state chiedendo anche come faccio i video vi faccio anche dei video di quali attrezzature uso per farli più stabilizzanti il telescopio come lo utilizzo vi farò dei video anche il selfie stick che utilizzo e anche i programmi che utilizzo per registrare o come metto le musiche vi farò tutti quanti questi video per farvi capire come diventare più bravi anche vi spiegherò come si usa movie maker come si usa paint come si usa obs studio visto che in italia comunque non ci sono tanti canali che spiegano queste cose tecniche quindi ho intenzione anche di fare qualche video tecnico di spiegarvi come funzionano tutte queste attrezzature mi sto divertendo un sacco perché vabbè il canale può diventare una fonte comunque di di reddito questo voglio essere trasparente però ancora adesso io questo è il guadagno cioè al mese perché qualcuno mi ha chiesto 7 euro comunque per me questo qui siccome ho lavorato nei ristoranti è anche una mancia cioè quando faccio il video la pubblicità mi dà una mancia ancora è una mancia non è un salario quindi però io adesso ho delle cifre capito 780 iscritti 800 al mese che li fanno i canali a 100 mila iscritti quindi mi sta contattando vari mi stanno contattando vari nel settore professionisti che vorrebbero darmi una mano a crescere e sto pensando di dargli una spinta in più uno di questi al canale facendo un investimentino quindi ho bisogno anche di collaboratori che si offre disponibile anche per fare copertine per migliorare i titoli che queste cose da solo io ho bisogno di un team da solo è dura quindi ho bisogno di un team magari siccome si stanno offrendo solo gli indiani magari qualcun qualche l'italiano io preferirei avere che mi dia una mano il supporto per fare la copertina migliore il logo migliore insomma comunque se qualcuno vede questo video è disposto io pago comunque perché se youtube mi diventa comunque una fonte di reddito è giusto che io aiuti gli altri lavoratori quindi sto cercando qualche grafico per fare le copertine qualche o per fare il logo del canale migliore più giusto anche cercare titoli magari migliorarli bisogno di persone che vediamo qualche dritta io comunque se me lo fai a livello professionale io ti parlo quindi vi ringrazio tanto anche sul video